Torresi divisi sui lavori in città. Dalle testimonianze raccolte questa mattina emergono infatti pareri discordanti. C'è chi si lamenta per la viabilità delle strade occupate dai ponteggi, chi invece preferisce che il centro storico mantenga il suo carattere originario. Di sicuro non mancano i disagi e le lamentele, anche a telecamere spente. Infine sono pochi quelli che plaudono ai numerosi interventi voluti dall'amministrazione comunale, guardando al futuro della città in termini di innovazione e in un'ottica turistica. Innanzitutto sono lavori che vanno fatti tranquillamente anche per portare un po' più di agevolazione alla nostra città, però magari ci sono tempi e modi per poterli fare. Quindi ci ritroviamo sempre in assoluto con strade rotte, magari traffico e quindi si vengono a creare disagi che comunque comportano delle mancanze in effetti. Quindi anche il grosso aumento dei cantieri che crea il forte disagio? Ebbè sì, certo, perché in effetti poi magari trovi punti di strade chiusi un po' dappertutto e quindi si viene a creare un disagio non indifferente. E lei più o meno cosa ha riscontrato in questo periodo? Ebbè c'è un po' di tutto, non sono solo i cantieri, quindi un po' le strade sporche, le persone incivili, la disorganizzazione. Vabbè, si dovrebbero fare delle cose che puntualmente non vengono fatte e quindi ritorniamo sempre indietro. C'è una mancanza organizzazione per quello che riguarda l'amministrazione comunale.